Ah, comunque mi si è rotto il pc per chi non lo sapesse Manco lo dico più perché è ormai così rindondante, è così la verità Mi si è rotto il pc Entro lunedì o martedì dovrei metterlo a posto Non voglio neanche pensare come sia possibile Che ogni volta che scatta la corrente in questo port Di posto si rompe solo a me il pc Solo a me Ce ne sono tre Uno, due, tre Il mio, sempre L'ho cambiato E la prima volta che lo cambi? Adesso l'ho cambiato Per la prima volta dopo tutte le rotture Quindi sicuramente adesso non accadrà più Infatto, cioè nel senso che se ricapita di nuovo Serve veramente sfortuna là O no? Oppure un altro motivo Me le cerco Vero Non hai messo il coso di continuità Non ti ricordi come era? Ma ne farò un annuncio Prima che fai il tuo annuncio Appena era andata via la luce Il mio amico Marco era andato in ascensore che se ne andava via E ha detto ti si è rotto il pc al 100% E tu hai detto se mi si è rotto Che cazzo rompe il tuo E invece eccoci qua A stremmare Perché sono bravo Perché sono bravissimo Non bravo Che cazzo rompevi il mio? Che cazzo rompevi il tuo? Ogni volta che succede qualcosa Me la tiri di sopra Mi gufi le cose Bastardo pezzo di merda La persona è stata visto zitto Non è vero Non è vero Le prime quattro volte Non ho detto niente L'ho detto questa volta No 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 Quella del gruppo Anche l'altra volta Un guai identico Chiudo la live Metti un ups che ti ergo la corrente Anche senza corrente Ragazzi ho provato a collegare ad un ups Al gruppo di continuità Che mi ha mandato mio fratello Che ringrazio Il mio amico Marco mi ha detto Secondo me si rompe adesso Ha collegato le prese E si è rotto di nuovo Si Forse devi cambiare Cambia pc completamente Già Cambia completamente pc Tutto Tutto Bro perché qualcosa C'è che non va E che cosa Ho cambiato la scheda madre E tutto quanto Che cosa cambia A farmi uno nuovo L'usb E mi hai cambiato Le usb Adesso di strozzo Adesso di strozzo Se tu cambi Ti faccio male Posso? Cos'è? Dimmi del pc Cos'è che non hai cambiato L'alimentatore e basta Poi Le usb le mi hai cambiate Le usb non si cambiano Devo cambiare il case Per le usb La scheda madre Ti cambia le usb Da dietro Quella davanti è il case Ma come cazzo Fanno essere le usb Non ti mangiare Come fanno essere le usb Il problema Dammi tre motivazioni scientifiche Io penso che quando Vabbè non ti ascolto Cambia amico Cambia amico Questa non è una brutta idea Vai con Marco uccello del mal auspicio Ok Ci sono sbalzi di tensione Nella tua stanza Sì in questa qua In quella nella casa prima Tutto nella mia stanza Tutto lo sbalzo di tensione E di energia Termiche Cambiano nella mia stanza Sono stato io Che vuol dire Sì stato tu Ho rotto il pc Che cazzo ridi Boh Non so che ho inventato Non è vero Mi fa ridere un sacco Il fatto che Tutte le volte Ho capito Ma è palese Che è l'alimentatore Ok E sei un cretino Che non l'hai cambiato prima Va bene Dici le specifiche del pc Ho una 1080 ti Ho una scheda madre Z490 Il processore Un i7 Un i7 Quello fortissimo Ho un raffreddamento liquido Brant Ter Forse Non mi ricordo Zer Non lo so neanche questo Faccio sempre fare A chi di dovere E un Q Che cazzo era Grazie al rirra Dei 5 euro e 49 Hai ragione E l'ho cambiato adesso Quindi sicuramente Non ricapita più No? Quanto è costato? Zero Mi hanno detto Ti aiutiamo a cambiare La scheda madre in live Io ho detto ok Ragazzi Vi dico il nome adesso invece Perché Ragazzi È l'ora di supportare I piccoli imprenditori Boned System Ragazzi Un negozio Che non avete mai visto prima Per i pc Perché voi Quando saldate Vi vedo Che siete a casa Che saldate Con la vostra maschera E perdete quei chiodi Ciao bellissimi Ciao Nick E saldate E voi dite Ma perché devo saldare Quando posso andare Da Boned System A Roma Un negozio Mai sentito Mai sentito Fino ad ora Perché ora ne ho parlato io Che è di speciale Boned System È un negozio di pc Che ti vendono Componenti Come pc Ma è diverso Perché è meglio Perché Perché è meglio Lavorano bene Come Come non draco Malfoy Draco Che schifo Miglior advertiser in Italia Sdrumos Certo ecco A Boned System E a tutte le magie lanciate A Harry Potter Flipendo Wingardium Denuncia Evitata Accio Dai bro Gioco a sto gioco Voglio giocare Voglio vedere Come va a finire Sto gioco Per favore Fai